ciao ragazzi per poco uscerà un video e vi lascio a buon visione e un video in foto e immagini spero che questo video mi piaccia e lasciate un bel like e vi lascio a buon visione e a questo video vi lascio alla buon visione ciao e buon visione grazie grazie